Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video annuncio. Io sono Sebastiglianimali e quest'oggi vi spiegherò più o meno cosa voglio fare. Allora, tutti i sabbati, la sera, verso più o meno le 9, diciamo, o 9 o 9 e mezza, farò delle live su Twitch. Quindi cercate, non mi chiamo Sebastiglianimali, però mi chiamo Sebba-Pets. Quindi andatemi a cercare, così potremmo stare insieme una serata a parlare. Allora, quindi questo primo sabato, ovvero domani, sarà la prima live e staremo insieme ad Eda, che è il pulcino, staremo insieme a lei live. Poi farò molti altri video del pulcino, poi magari qualcosa dell'acquario, perché poi vi voglio vedere alcune piante che ho preso, come questa qui. E poi ho creato un altro canale insieme a Vincenzo Animal, che lo devo ancora creare. Però non so se chiamarlo, ditemelo voi nei commenti, se chiamarlo Bike Viral oppure Bike TV. Ditemi voi come lo potrei chiamare. E questo, questi sono, diciamo, gli annunci principali. Poi ovviamente vedrete altri video. Scusate se ancora non è uscito la seconda parte del video del mio giardino, in cui catturiamo i pesci. Perché sta facendo un brutto tempo, quindi i pesci sono tutti nascosti. Sto andando a controllare ogni giorno. Comunque credo poi che lo farò verso le vacanze di Pasqua. E poi farò anche, forse, dei video insieme all'Orix. E vi lascio qui sotto nei commenti, sì nei commenti, nella descrizione, il suo canale. Farò insieme a lui dei video, di videogiochi. Forse, però. E questo, questi sono gli annunci principali. Ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Sebastiano Animali e dai miei pesci dell'acquario. Ciao a tutti!